Scegliere l'università è un casino. L'università ideale dovrebbe garantire la coltivazione di un individuo in tutti i suoi aspetti, rispettando nelle capacità i tempi, i desideri e la personalità. Luis ci piace perché oltre a un'offerta estremamente variegata di attività integrative alla didattica come il volontariato, lo sport, programmi per entrare in contatto con il mondo del lavoro già dai primi anni per colmare quel distacco tra idea e realtà, e in realtà un sacco di altre cose che se io mi mettessi ad elencare questo video andrebbe visto al cinema, incomincia a parlare con gli studenti del liceo già dal terzo e quarto anno.